Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Lo scrittore che incontriamo questa settimana ha scritto un libro in cui racconta di un'amicizia speciale. Un'amicizia tra due persone che non si sono incontrate per oltre 50 anni, ma che settimanalmente, ogni domenica, si sentivano al telefono. I due amici in questione sono Andrea Camilleri e il suo migliore amico Federico Oefer. Ne parliamo con uno dei due autori di questo libro, Andrea Cassisi, ben trovato, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie Paolo a voi per questo spazio. Hai scritto questo libro a quattro mani con Lorena Scimè, edito il libro da Dario Flaccovio, editore, si intitola Oefer, racconta Camilleri, gli anni a Porto Empedocle. Allora, un libro appunto che racconta di un'amicizia, un'amicizia tra due persone straordinarie. Una è molto famosa, Andrea Camilleri, reduce dai successi di Montalbano. L'ultima puntata ha avuto un successo strepitoso. A parte questo, com'è nata l'idea di scrivere un libro dedicato all'amicizia tra Andrea Camilleri e Federico Oefer? È una scelta in realtà casuale, non certamente voluta sin dall'inizio. Tutto nasce per caso durante un incontro con Federico Oefer in un teatro di Gela, che è la nostra città di origine, sia mia che di Lorena. Ci siamo trovati accanto ad Oefer, che si lamentava della scarsa presenza di pubblico ad una iniziativa culturale, ripetendo più volte che ai tempi suoi e di Andrea era tutto diverso, anzi c'era questa voglia di fare cultura, e c'era molta più partecipazione. Nominando più volte Andrea, dava per scontato che Lorena ed io avessimo compresso che quella Andrea di cui parlava era Andrea Camilleri. Quindi lo scrittore empedoclino che ha cambiato le sorti del territorio di Ragusa, quindi di una buona parte della Sicilia, che fa il boom di ascolti con il commissario Montalbano, tradotto praticamente in quasi tutte le lingue del mondo, era in realtà l'amico intimo di Federico Oefer, col quale tutte le settimane per 50 anni, come ben dicevi prima, hanno parlato al telefono senza mai incontrarsi. Allora è stata un'amicizia che è stata tenuta viva grazie alla cornetta del telefono, ma fatta di sentimenti, di ricordi, di odori, di profumi che questo libro vuole riuscire a trasmettere ai suoi lettori, che ci sono stati affidati dal bravo Federico Oefer che è scomparso lo scorso agosto, con una naturalezza che ci ha lasciati davvero incantati. Noi inizialmente pensavamo di scrivere in realtà un articolo per le rispettive testate con le quali collaboriamo, e invece ci siamo resi conto che Federico Oefer ci ha affidato uno scrigno, un tesoro di ricordi che non potevano che diventare un libro per offrire un ritratto inedito di Andrea Camilleri, ma anche di questa bella portempeduca degli anni 50, vissuta da entrambi, che ovviamente sono accomunati dall'idea che il mare possa essere un grande porto, insomma non solo di accoglienza, ma anche di approdo per diversi sentimenti, perché il mare è una costante molto frequente in questo libro. È vero, è proprio così. Andrea, porti un nome importante come quello di Andrea Camilleri, quindi come dire, certe volte le cose non succedono a caso. E quindi avete incontrato più volte Federico Oefer che vi ha raccontato, vi ha aperto davvero i cassetti del suo cuore, i suoi ricordi, la sua amicizia con Andrea Camilleri. Mi racconti un paio di episodi particolari, di aneddoti che possiamo ritrovare nel libro. Sono aneddoti simpatici, ma sono aneddoti che rimandano a quel Camilleri che tutti conosciamo. Federico Oefer ci racconta di Adelina, ad esempio, la cameriera invisibile del commissario Montalbano, che in realtà compare sotto mentite spoglie, o meglio sotto mentiti profumi, quelli delle arancine o della pasta con le sarde. In realtà Federico Oefer ci dice che quella donna è realmente esistita, era la cameriera, la creata nel dialetto agrigentino di casa Camilleri. Federico Oefer ci racconta, io la ricordo, lei svuotava il salotto, toglieva le suppellette, le apriva ai tavoli perché ci permetteva di giocare a ping pong dentro casa. Era la donna che, a quei tempi non c'erano i citofoni, scendeva ad aprire il portone quando Federico Oefer, annunciandosi con un fischio, andava a trovare Andrea a casa dei genitori. Era la donna che coccolava la famiglia Camilleri, quella famiglia molto unita, molto affiatata che apriva le porte a tanti amici in quella casa. Gli stessi amici di cui Andrea non si è mai dimenticato e che fa rivivere nel commissario Montalbano sul Rai 1 attraverso per esempio i cognomi, l'ispettore Fazio, non è un caso che si chiami così, ma si chiama così appunto perché Fazio era un membro della comitiva di cui facevano parte Federico Oefer e Andrea Camilleri, che era proprietario di un grande salotto che veniva aperto per le serate danzanti, quindi quella era anche l'occasione per stringere un po' di più una donna o permettersi di poter ballare con lei. Sono tanti e innumerevoli gli episodi che sono contenuti in questo libro. Mi racconti quello del bacio perugina? E questo è fantastico. Andrea Camilleri e Federico Oefer parteciparono al concorso della baci perugina e l'azienda disse scrivete una frase, la più bella la inseriremo nelle cartine dei cioccolatini. Allora Andrea scrisse, le donne sono come le pagode cinesi, affascinano con i loro misteri. Quella frase vinse il primo premio, quindi si trovò praticamente in tutti i cioccolatini d'Italia gli stessi cioccolatini che loro offrirono, quale premio insomma di questa vittoria, alle donne che insomma partecipavano alle feste organizzate dalla comitiva di Agrigento di quell'epoca. Nel salone di Casafazio. C'è anche un aneddoto che riguarda la foto riportata nella copertina, due giovanissimi, Andrea Camilleri e Federico Oefer. È un aneddoto che riguarda anche l'incontro che avete avuto con Camilleri, quando gli avete portato questo libro. Esattamente, quando noi partiamo alla volta di Roma, perché Federico ci annuncia ad Andrea, gli dice verranno due mie amici a portarti una cosa. Quando noi arriviamo a casa di Camilleri a consegnare questo libro, lui ormai non vede più, accarezza la copertina, con noi è la figlia Mariolina, la più piccola, la quale dice papà è un libro, ci sei tu in copertina che guardi Federico Oefer. Lui con una memoria disarmante ricorda che quella foto in realtà, intuisce subito che quella foto non è altro che uno spezzone, un frammento di un'altra foto che contiene altri amici. Quindi accarezza veramente con grande tenerezza la copertina del libro e quasi si commuove, ricordando gli altri amici della comitiva che facevano parte di quello scatto. Ed era il 1952, entrambi si trovavano al Teatro Mezzano di Porta Empedocle, portavano in scena con la compagnia le maschere nude, così ce ne andremo. E in quell'occasione Federico Oefer mette il cerone al viso, quindi pronto per andare in scena, e Andrea, da attento regista qual era, segue passo passo tutti i preparativi, insomma, prima di calcare il palcoscenico. E c'è un episodio che racconta nel libro, proprio relativo a questo spettacolo, della valigia dei ricordi, che Federico Oefer, fa commuovere Federico Oefer, perché a lui viene chiesto quale, tra tanti ricordi, metteresti nella valigia se insomma dovessi andare via e portare via qualcosa con te. E lui dice, in realtà può non mettere nulla, chiudere la valigia e me ne andrei, perché vuole attribuire appunto ai ricordi non qualcosa di materiale, ma qualcosa di tenero, di sentimentale, che in realtà ha sempre appartenuto a Federico Oefer, che di sentimenti, di poesia, ha vissuto veramente un'intera vita. Tu pensa, Paola, che Federico Oefer fu il primo ad accorgersi della bravura di Andrea Camilleri. Del suo talento, sì. Grazie alla studiosa pirandelliana, che è anche docente universitaria, Sara Zappula Muscarà, ci è stato raccontato che Leonardo Ciascia diceva sempre ad Andrea Camilleri non scrivere in dialetto siciliano, altrimenti non ti leggerà nessuno, perché nessuno comprende il nostro dialetto. E in realtà il primo ad intuirlo probabilmente fu Federico Oefer, che gli diede il premio di narrativa che fu organizzato a Gela, tra gli altri l'attore Vincenzo Mollica e lo scrittore comisano Gesualdo Bufalino, che appunto seduti a questo tavolo della presidenza, gli attribuirono questo riconoscimento. Quindi a lui va anche questo onore, quello di avere, tra virgolette, scoperto, forse per primo, il talento di Andrea Camilleri. Andrea, in conclusione, l'incontro appunto con Andrea Camilleri, lui vi ha ringraziato per aver scritto questo libro e ha detto che vi avete fatto un regalo grandissimo. Sì, in un videomessaggio lui dice a Federico Oefer mi hai fatto uno dei più bei regali della mia vita, soprattutto perché arriva inatteso come una sorpresa nell'uovo di Pasqua. Poi aggiunge, me lo farò leggere e rileggere parola per parola perché io purtroppo non vedo più. Ma sono certo, lui dice, che anche se non vedo, me lo saprò gustare lo stesso. E poi chiude con una frase tipica siciliana e dice Federico, ti voglio bene, t'abbrazzo forte, ciao bello mio, che è un po' il saluto siciliano tipico soprattutto dell'aggrigentino. Andrea Camilleri non ha mai dimenticato l'affetto e l'amicizia di Federico Oefer. A Teresa Mannino, che organizza uno speciale che va in onda sulla Rai, dice, vai in Sicilia, lì a Gela vive Federico Oefer, saprà raccontarti tanti altri episodi della nostra adolescenza. E lo identifica nel filo di fumo pubblicato da Garzanti come a Federico Oefer, il mangiatore di patate, perché di origine tedesca. Quindi c'è sempre stato un legame in simbiosi che ha visto veramente superare questa amicizia oltre quella cornetta del telefono, che in realtà poi li ha sempre tenuti uniti. Grazie anche alla complicità delle famiglie, Camilleri e Oefer si sono anche incontrati poco prima che Oefer ci lasciasse. Io vorrei consigliare questo libro. Dario Flaccovio, editore, Oefer racconta Camilleri, Gli anni a Porto Empedocle, firmato da Andrea Cassisi e Lorena Scimè, che ringraziamo, anche se non è qui fisicamente con noi, ma la vogliamo appunto ringraziare per aver scritto insieme a te questo libro. Grazie. Grazie Paola, grazie a te per questo spazio. E buona lettura a tutti. Grazie a te per questo spazio. Grazie a te per questo spazio.